se devi fare fai legno ceppo però quando sono salito non l'ho fatto quello non mi piace andiamo alla vasca dei pesci andiamo ma si vuole fare i due sassi ma non riesce a farli no lui fa quei due là ma non li fa fa finta andiamo che gli andiamo dietro dai troppo storto vai vai agisci vai ma non giù vai di là va alla zona del marco zona del marco no vai andiamo che andiamo in su ma tanto non provano si è spinta ancora era in terza cosa a fare che sta parlando di quei funghi la chiama autofilettanza hanno una brutta faccia andiamo 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 in su spanti andiamo andiamo deep enough so Grazie.